Fondi alle periferie e case Ater, problemi caldi, consigliere Pettinari soprattutto nel quartiere Fontanelle e questa mattina a tal proposito ha avuto un colloquio telefonico con il direttore generale dell'Ater, quali sono le novità? Sì, intanto ci troviamo in una zona dove purtroppo dei 540 appartamenti la maggior parte sono interessati da insalubrità dei posti, infiltrazioni, muffa, umidità, cittadini che si sono ammalati, che sono finiti in ospedale perché all'interno dell'appartamento non si può più vivere. I fondi che dovrebbero arrivare sono fondi statali ma purtroppo non sono ancora arrivati, la regione non sblocca le procedure. La cosa grave è che ho presentato emendamenti in regione, in consiglio regionale, per stanziare fondi propri della regione Abruzzo. Per la manutenzione delle case popolari mi sono stati tutti bocciati e ho scoperto che ancora una volta per il terzo anno consecutivo tutti i capitoli relativi alla manutenzione delle case popolari sono a zero, i capitoli diretti della regione Abruzzo. Quindi io chiedo sicuramente di stanziare fondi e risorse perché quelli statali non bastano, di sbloccare l'iter per l'inizio dei lavori, di quei piccoli lavori che vorrebbero fare, che sono delle pezze, delle piccole toppe che vorrebbero mettere, che non risolverebbero comunque il problema, non solo. Siamo in una zona dove l'emergenza sicurezza si fa sentire. Qui c'è spaccio di droga diffuso, cittadini, 30 famiglie che tengono in ostaggio il restante della popolazione, che delinquono a attività illecite, usura, racket, c'è un po' di prostituzione. Avevamo chiesto un'unità fissa di polizia H24, non ci è stata concessa. E qui i cittadini continuano ancora a convivere con questi soprusi, angherie, atti vandalici, ogni tanto bruciano qualche citofono, tagliano gomme delle macchine, bruciano macchine. Ecco, tutto questo non è più possibile. Quindi più attenzione da parte delle istituzioni e fondi e inizio immediato dei lavori per ripristinare un minimo di legalità, di giustizia e di salubrità di questi posti.